Allora eccoci qua, ci ritroviamo per vedere un pochettino come riepilogare tutte le schede che abbiamo fatto in questo terzo anno di quarta elementare, è stato un anno un po' particolare allora andiamo a ricercare come fare per riepilogarle, basta andare su Classroom, ognuno va col suo account io ho un account generale per cui mi ritrovo tutte, quarta elementare, eccolo qua, ignora, meet, lasciamolo stare e quindi qua trovate tutte quante le schede, ma abbiamo messo programmazione generale dell'anno eccolo qua, apriamo, c'è sia il Word che il PDF, andiamo ad aprire il PDF e ci ritroviamo così in modo tale da avere tutto quanto, no? Che cosa era quest'anno? Seguiamo Gesù ogni giorno vivendo l'ultima cena, cioè l'ulitima, scusate c'è un errore, cioè il primo anno abbiamo conosciuto Gesù il secondo anno abbiamo conosciuto la storia di Gesù, dei suoi padri, la storia e quindi l'amore del padre quest'anno, è il terzo anno, scegliamo di seguire Gesù e come lo si fa a partire dall'ultima cena, dall'eucarestia siamo partiti da queste schede, prima scheda, crescere nell'amicizia con Gesù in fondo il catechismo è l'appuntamento settimanale con cui io esco con Gesù e con i nostri amici perché siamo una banda ci stanno pure gli anziani, c'è un prete che è amico di Gesù e noi ogni settimana ci vediamo, ci vediamo la domenica insieme proprio a tutti, questo mondo e quell'altro ma ci vediamo il mercoledì pomeriggio proprio per vivere questa grande amicizia con Gesù racchiusa con che cosa? Con il segno della croce che è il segno fondamentale con cui noi amiamo Gesù e amiamo il padre nello spirito santo poi abbiamo visto a novembre la storia del signor Tasso, la cosa bellissima di Gesù che ha vinto la morte e la morte con Gesù non è più il problema ma soprattutto l'ultima cena, Emmaus, è proprio quello che sta avvenendo a Pasqua è la storia di due che incontrano Gesù come lo incontrano? andando a messa, cioè che sto dicendo? questi due camminavano, Gesù si fa a fianco a loro e li fa parlare parlano insieme, no? dopo che hanno parlato qualcosa si accende dentro il loro cuore con Gesù ci si parla volentieri, si ascolta, non lo capisci subito però capisci che ha qualcosa di importante da dirti e allora ti interroghi, parli della tua vita ma allora lui ti aiuta a rivedere la tua vita ti fermi a cena con lui e lui spezza il pane lo riconosce Gesù, era Gesù che parlava con noi e allora sei pronto a ritornare indietro di corsa è quello che noi viviamo anche nella scheda 5 cioè come si realizza l'incontro? ti incontri e ti saluti ti guardi un attimino in faccia proprio come è successo a quelli di Emmaus è quello che facciamo noi all'inizio della messa nei riti introduttivi, col canto iniziale, col segno della croce chiedendoci scusa e cantando il gloria a Dio poi con la preghiera finale del sacerdote è come se ci raccogliessimo non siamo in un mercato perché in un mercato ognuno sta per i fatti suoi noi facciamo insieme il segno della croce e poi uno parla a nome di tutti prima parte seconda parte la liturgia della parola è come Gesù parla la sua parola noi rispondiamo col Salmo e lui riprende un brano dell'Antico e del Nuovo Testamento e noi rispondiamo con l'Alleluia e lui poi ci parla col Vangelo il sacerdote ci aiuta a riapplicare il Vangelo alla vita e quindi rispondiamo col credo e con la preghiera dei fedeli è la parte del dialogo dopodiché che fa Gesù con i discepoli di Emos? si ferma a cena ecco che parte la liturgia eucaristica si prese il pane ecco viene portato il pane e il vino viene portato alcuni simboli della nostra vita e vengono portati sulla mensa rese grazie con la preghiera eucaristica il sacerdote rende grazie il Signore sia con voi e con il tuo spirito in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore e poi c'è il ricordo dell'ultima cena quando il sacerdote ripete le parole di Gesù ed è come se le ripronunciasse Gesù prendete e mangiatene tutti prendete e bevetene tutti questo è il mio corpo questo è il mio sangue prese il pane e rese grazie e lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli infatti poi col Padre Nostro e il segno della pace c'è la comunione è finita? No! c'è il mandato finale dopo la comunione dopo aver ringraziato Gesù ecco c'è l'ultima benedizione in cui il sacerdote dice andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto sono i riti conclusivi qui sono le quattro parti due centrali la liturgia della parola e la liturgia eucaristica i riti introduttivi e i riti conclusivi sono quattro parti fondamentali la scheda 6, 7 e 8 poi ci aiutava a riconoscere i quattro evangelisti perché sono quattro vi ricordate la prima scheda? perché per parlare di Gesù Gesù è così ricco che non si può dire in un modo solo lo devono dire almeno quattro insieme con quattro modalità diverse e abbiamo scoperto poi testi caratteristici Matteo è quello che ricorda di più l'Antico Testamento Marco è quello che ricorda di più l'entusiasmo Gesù forte, graffiante Luca è quello che invece ricorda di più la misericordia Gesù che annuncia un padre che ci ama di un amore infinito e che sempre ci perdona Giovanni è quello che annuncia Gesù come un'aquila vi ricordate il simbolo di Giovanni? e quindi che l'annuncia come un re che porta a compimento tutte le scritture che realizza la volontà del padre abbiamo visto come ci raccontano degli aspetti diversi della stessa realtà e questo era Natale dopo Natale ci siamo ripresi abbiamo iniziato con questa scheda un po' particolare vi ricordate i promessi sposi la peste il discorso di padre felice era bello era un modo pure per raccontarci un po' il Natale che abbiamo vissuto sempre in zona rossa poi c'era il miracolo di Bolseda quel sacerdote che celebrava la messa ebbe un dubbio ma c'è o non c'è Gesù? questo è pane cade una goccia di vino e allora si realizza un sogno che avevano fatto che il Papa aveva fatto quando era giovane con una mistica a cui Gesù aveva chiesto di essere portato con l'ostia in giro per le strade proprio per benedire tutti quanti e per dire io sono realmente presente in mezzo a voi e così è nata la festa del Corpus Dominic e quest'anno vivremo proprio l'ultimo giorno delle prime comunioni Don Bosco che sognava sempre l'Eucaristia Domenico Savio che amava l'Eucaristia Sant'Arcisio che era morto pur di non violare l'Eucaristia e per questo è vissuto per sempre così i martiri di Abitene che non potevano vivere senza la Domenica una Domenica non vissuta insieme rendeva spenta la vita e poi abbiamo visto i Dieci Comandamenti che sono le guide per una vita bella e in Quaresima invece siamo entrati nella scrittura abbiamo conosciuto sei nove brani spero che ne abbiate scelte e ve li ricordiate nove brani abbiamo visto come riapplicarli abbiamo cercato di capirli tutti a nove e ognuno di voi ne doveva scegliere uno e di ogni brano doveva scegliere una frase spero che l'abbiate fatto poi abbiamo visto il triduo e quindi come l'abbiamo rivissuto e poi rivedremo pian piano questa volta il triduo è giovedì venerdì e sabato santo la Pasqua riordiniamo tutte le schede e rivediamo dei giochi online poi vedremo Don Pino Puglisi che è beato Pino Puglisi e Giorgio Lapira due grandi uomini che avevano al centro della vita l'Eucaristia per questo sono diventati Don Pino il primo morto e chi ha sgominato la mafia col suo sorriso Giorgio Lapira che era sindaco di Firenze è stato un sindaco bravissimo proprio grazie all'Eucaristia che viveva Giovanni Paolo II e Madre Teresa due grandi uomini tutti innamorati dell'Eucaristia e poi ci prepareremo alla confessione che vivrete e alla prima comunione ok? questo un po' per ricapire a che è servito quest'anno per crescere nell'amicizia con Gesù attraverso la Messa e nella Messa entrando nella parola di Dio la Messa è una cosa bellissima che caratterizza tutta la nostra vita cristiana tutto chiaro? spero di sì e spero con questo video di avervi aiutato ops